Rastano poche spanne di muro per dargli l'illusione della sicurezza, ma non basteranno a difenderli! Loro sono un po' più numerosi, ma la nostra forza d'animo compensa largamente questa differenza. Però uno solo di voi vale più di un'intera squadra nemica. L'abilità, il valore e l'onore sono sempre importanti in guerra. Dobbiamo colpire i nemici da lontano con le armi da lancio per logorarli! Ora andiamo a versare sangue! Unità al mio ordine! Unità al mio ordine! Unità al mio ordine! Unità al mio ordine! Un'agri pesanti! Avanti! Bonagri! Avanti! Bonagri! Bonagri! Bonagri pesanti! Unità! Unità! Tirare a volontà! Unità! Usare il fuoco! Scorpioni! Scorpioni! Unità! Tirare a volontà! Avanti! Un'agripe! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. Il nemico mostra il suo vero valore. Non sono soldati. Sono solo conigli spaventati. Questa è una vittoria eroica, degna delle armi romane. Grazie a tutti.